Le telecamere che sono state installate negli ultimi giorni non hanno nessuna funzione punitiva nei confronti dei cittadini perché non sono telecamere legate al codice della strada e alle sanzioni del codice della strada, ma bensì sono telecamere che sono state messe in punti strategici della città, punti di ingresso e di uscita della città che servono per il controllo sulla sicurezza. Saranno sicuramente utili alla Polizia Municipale e alle forze di Polizia, Carabinieri per controllare la città e quindi eventuali la possibilità di individuare persone auto che hanno compiuto qualche infrazione o qualche reato sul nostro territorio. Quindi sono delle telecamere che servono a garantire la sicurezza dei cittadini. Non rilevano nessuna velocità delle auto, neanche lo stato assicurativo delle auto, ma servono soltanto per il controllo del territorio.